Dillo? Dillo! Mi chiamo Sandro e sono una cake. Ma cosa guardate? Ma lasciateli perdere questi, no? Adesso vi faccio vedere io brutti stronzi. Prima generazione crea, la seconda conserva. E la terza distrugge. Bello. Il sito della mia chiesa è pieno di minacce. Solo se non abbiamo paura possiamo essere liberi. Quello che stiamo facendo è un annuncio fino da ragazzi. Te la senti di farlo? Se c'è da guadagnare bene non ho paura di niente. Sono un donatore solo. E compatibile. Per dirvi che c'è una chiesa che vi ha fatto del mare ma c'è una chiesa che vi vuole tanto bene. Cosa sta succedendo? Dobbiamo vendere tutto. Buonasera puttanelle. Io a te ti faccio fare la fine del prete stronza! Per quanto mi riguarda potrebbe essere davvero un pedofilo. Vi siete appartati qua eh piccioncini? Tu vivi nella casa di questo palmetto. Hai capito? Noi siamo così bravi a credere in ciò che non possiamo vedere né portare. Tu che cazzo riprendi eh? Se non riuscisse a resistere alle tentazioni. Mamma! Un'ultima possibilità. Che abbiamo pestato noi? Nessuno. Viviamo in un mondo feroce. Vediamo a prelevare. Abbiamo tutti paura. E il conforto alla nostra paura viene dalla fede negli esseri umani. 28 aprile tutti al cinema e non mancate altrimenti vi trascinerò all'inferno.